E buon pomeriggio a voi gentili telespettatori, ben ritrovati a questo appuntamento quotidiano in diretta dai nostri studi televisivi e con la nostra trasmissione in prima linea cerchiamo appunto di entrare quotidianamente nelle vostre case per portare tante notizie aggiornate che riguardano ovviamente la nostra attualità. Allora benvenuti a questa puntata di oggi, vi ricordo che potrete intervenire in diretta con noi utilizzando i canali che mettiamo a vostra disposizione, quindi il numero di WhatsApp per i messaggi e poi il numero di telefono se eventualmente voleste chiamarci. Vi dico assolutamente di seguirci fino alla fine, staremo insieme fino alle 16.30 perché come sempre avremo ospiti in studio e ospiti virtuali che mi aiuteranno davvero ad affrontare tutte le tematiche di questa nostra puntata. Allora andiamo subito a conoscere gli ospiti che sono intervenuti in studio con me e che ringrazio, sto parlando di Alessandro Avramo, farmacista, capogruppo dei moderati in circoscrizione 6. Grazie per essere con me oggi. Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutti. Chiara De Petri che è responsabile dei volontari della Diapsi Piemonte, associazione in difesa degli ammalati psichici. Grazie anche a lei per essere qui. Buongiorno a tutti. Ebbene sarà sicuramente una diretta che cercherà di affrontare questo periodo che stiamo vivendo da vari punti di vista. E noi cominciamo subito coinvolgendo in realtà un ospite che è già in videocollegamento con noi e che ringrazio perché dobbiamo sicuramente chiarire alcuni punti che riguardano appunto il Covid. Quello che si sta facendo per cercare di arginare questa emergenza mondiale e proprio per raccontarci cosa, come si sta muovendo la comunità scientifica ho chiamato a intervenire in diretta con noi il professor Francesco Broccolo, virologo dell'Università degli Studi Milano Bicocca, coordinatore del laboratorio CERBA Healthcare di Milano. Grazie a lei per essere qui con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Io davvero la ringrazio perché vorrei poterle chiedere qualsiasi cosa, ovviamente i tempi sono sempre ristretti, ma cominciamo subito perché con la trasmissione di cui mi occupo cerco sempre di portare nelle case dei nostri telespettatori delle informazioni che siano il più possibile verificate, corrette, perché credo che in questo momento di grande confusione e di pareri che arrivano davvero da ogni parte sia necessario capire qual è la realtà dei fatti. E quindi innanzitutto chiedo a lei cosa sappiamo delle varianti, perché so che con il suo laboratorio in particolare proprio su questo tema che si è soffermato, andando anche a sintetizzare una nuova variante, magari iniziamo proprio da lì, e poi cerchiamo di capire cosa vuol dire che appunto un virus muta e quindi sviluppa quella che viene definita una variante, proprio dalle basi professore. Sì, allora innanzitutto dobbiamo dire che tutti i virus mutano continuamente, certamente i virus ad RNA come questo mutano un po' di più, altri mutano un po' di meno, ma dopo più di un anno di pandemia le possibilità di questo virus di poter cambiare il proprio genoma, il proprio RNA sono state elevate, perché dovete immaginare che più contagi questo virus riesce a fare, ed è anche per questo che ogni tanto è necessario fare delle restrizioni, più il virus muta. Quindi per dare svantaggio e correre più velocemente noi dobbiamo fermarlo e evitare che contagi continuamente nuove persone, perché più contagia più si moltiplica e più errori fa, nel fare errori guadagna delle mutazioni che portano dei vantaggi a questo virus. Ecco, questi vantaggi possono essere di vario genere, nel creare queste mutazioni si creano dei veri e propri nuovi virus, che noi chiamiamo varianti, perché di fatto il virus è sempre lui, ma ha delle mutazioni, un accumulo di mutazioni. Queste mutazioni possono portare dei vantaggi di tipo, ad esempio, sfuggire agli anticorpi evocati da un vaccino o agli anticorpi stessi di un soggetto che ha già avuto il Covid, per esempio, e quindi può ricontagiarsi. Oppure vantaggi di altro genere, come la variante inglese, che ha modificato la chiave per entrare nelle cellule, ha una specie di passe partout e riesce a infettare persino i bambini che hanno poche serrature. Ecco perché questa variante inglese di per sé non è più letale, ma è più contagiosa, perché ha selezionato una mutazione particolare che gli permette di entrare anche quando ci sono pochissime serrature, che è il caso dei bambini. Però voglio anche dire che nel fare tutte queste mutazioni non sempre il virus accumula, guadagna dei vantaggi, a volte seleziona delle mutazioni che non danno un vantaggio necessariamente in termini di letalità, di virulenza, ed è quello che è accaduto qualche giorno fa nel nostro laboratorio, abbiamo identificato una nuova variante di una paziente di Novara, che questa variante è costituita dall'80% della variante nigeriana e del 20% dalla variante inglese, quindi è un mix delle due varianti che probabilmente si è formata a seguito dei scambi di genoma, di sequenze all'interno di un solito soggetto che non è necessariamente la paziente nella quale noi l'abbiamo individuato, ma può essere avvenuto precedentemente e questa nuova variante di fatto non è né più contagiosa perché non ha contagiato neanche i familiari, non è più letale perché di fatto la paziente è risultata essere asintomatica, quindi il messaggio che voglio dare è variante non vuol dire necessariamente pericolo in più, rischio in più, variante è tutta da osservare, può essere un virus più virulento oppure meno virulento. Speriamo che in questo caso aumentino queste tipo di varianti come questa che abbiamo isolato e che si vada verso un quadro di tipo epidemico, cioè che il virus diventa parte di noi stessi come il virus influenzale e che smetta di dare malattie gravi. Per quanto riguarda la ricerca di queste varianti, attualmente che possibilità abbiamo? Soltanto i test molecolari riescono a sequenziare queste varianti oppure i test rapidi possono agire in questo senso? Perché sappiamo che poi alla fine è una questione di tempo, quindi riuscire ad intercettare prima possibile le varianti credo che sia fondamentale. Certo, è fondamentale, i test antigenici sono, sappiamo, poco sensibili, soprattutto se vengono utilizzati sulla saliva, hanno veramente una sensibilità molto scarsa e quindi con i test antigenici possiamo fare il classico campionamento con il cotton fioc che chiamiamo sempre noi tampone in laboratorio. Il tampone fatto con il test antigenico può avere un senso solo nelle piccole comunità e se è fatto frequentemente, cioè che cosa significa? Può avere senso se ad esempio in una scuola o in un'azienda settimanalmente viene ripetuto e fatto in modo da individuare immediatamente il caso positivo. Il caso positivo saranno qui i casi ad alta carica virale, quindi devono avere necessariamente una carica molto significativa perché il test, ripeto, è poco sensibile, ma se ripetuto settimanalmente i dati scientifici ci dicono che ha un significato. Al momento sulla saliva non esiste un test attendibile che sia rapido, di tipo antigenico, ma di tipo molecolare certamente sì esiste. Per poter poi stabilire quale variante sia bisogna necessariamente che vada in laboratorio e che venga utilizzato un test di screening che con delle sonde molecolari riesce a capire quali mutazioni sono presenti e quindi a capire se quelle mutazioni sono abbinate alla variante inglese, alla variante sudafricano o alla variante brasiliana. Quindi mi scusi, dal punto di vista proprio delle tempistiche, quanto si amplia, quanto si allungano i tempi in questo modo? Per poter identificare la variante si allunga certamente, il campione deve necessariamente arrivare in laboratorio, quindi il tempo che si perde soprattutto è nella logistica, nel dover portare il campione che è il risultato positivo in una scuola o in un'azienda di tipo antigenico deve andare in laboratorio e poi con un test di screening in sole due ore si riesce a vedere a quale variante può appartenere quella mutazione, se ci sono mutazioni. Ormai sono quasi tutte varianti inglesi, il 90% dell'Italia ormai è invaso da varianti inglesi, una piccola percentuale di variante brasiliana è ancora più piccola sudafricana e la brasiliana è soprattutto in Umbria, ma Lombardia, Veneto e Piemonte direi che è quasi tutta variante inglese. Ecco quindi arriviamo al punto sicuramente al nodo che è quello dei vaccini, sulla variante inglese abbiamo capito che sostanzialmente il vaccino ha efficacia, quindi non ci sono due da questo punto di vista. Ecco io voglio però così chiedere il suo parere per quanto riguarda, lo sappiamo, purtroppo ha avuto vicende altalenanti il vaccino AstraZeneca con un blocco momentaneo delle vaccinazioni, adesso la pronuncia dell'EMA ha fatto sì che siano ripartite sostanzialmente, ora però sembra che ci siano, siamo arrivati ad un momento in cui l'EMA dice non si può escludere che ci sia un nesso tra i casi di trombosi e la vaccinazione AstraZeneca, anche se non è chiaro quale sia il meccanismo, tanto che leggo ci sono alcuni paesi che purtroppo hanno sospeso l'uso di questo vaccino, l'Olanda, fino al 15 aprile Norvegia e Danimarca. È possibile dal suo punto di vista che cambi qualcosa, che ci sia un nuovo stop, che vengano indicati nuovi paletti per quanto riguarda l'utilizzo di questo tipo di vaccino? Allora, cercherò di essere più chiaro possibile. EMA è sempre stata molto onesta e molto scrupolosa e lo è tuttora nell'analizzare i dati. La numerosità campionaria, cioè il numero di casi di questi eventi così rari, molto rari, che sono le trombosi cerebrali, sono ancora così pochi che EMA non riesce a dare un netto e definitivo messaggio a tutta l'Europa. Quindi non riesce a escludere, ma non riesce neanche a dire, a trovare un nesso causale tra questi rarissimi eventi e la dose di AstraZeneca, il vaccino di AstraZeneca. Quindi si trova, diciamo la verità, in difficoltà nel dover sospendere, perché non ha di fatto i dati per sospendere o dare dei limiti di età, ma non ha neanche dati per poter dire che tutto va perfettamente. Quindi io credo che nelle prossime settimane continuerà, salvo dati che improvvisamente capovolgeranno tutto, a mettere dei limiti di età, ma ragionerà in questo modo, lascerà alle autorità nazionali di poter prendere una decisione se mettere o meno un limite di età. Ad esempio la Francia e la Germania ha messo il limite dei 60 anni, cioè utilizzeranno AstraZeneca solo per gli over 60, anche perché questi rarissimi casi si sono visti nella fascia tra 30 e 50, 55 anni in donne. E tra l'altro questa fascia di età è una fascia di età che ha un rischio tra l'altro bassissimo di avere un Covid severo e grave. Quindi la questione se vaccinare anche le donne giovani è veramente una questione complessa. Quindi cosa potrebbe accadere in Italia? Potrebbe accadere che AIFA potrebbe rivedere i limiti di età e mettere AstraZeneca destinato agli over 60, anche perché gli over 60 sono tantissimi da vaccinare, sono diversi milioni, quindi non c'è il problema che AstraZeneca non venga utilizzato. Bisogna capire se Pfizer poi è sufficiente ad esempio per le insegnanti che sono sotto i 60 anni e quindi si creerebbe il problema poi di non avere le insegnanti vaccinate. Quindi c'è questo calcolo da fare, teniamo anche presente però che è in arrivo Johnson & Johnson dal 19 aprile. Quindi mi aspetto che EMA non metterà dei limiti di età, ma che potrà farlo AIFA. Perfetto, è stato chiarissimo. Ora un altro nodo cruciale, poi ovviamente la saluto e la ringrazio per tutte le risposte che sta dando in modo puntuale alle mie domande. Visto che sappiamo l'Italia conta proprio i vaccini come se fossero davvero oro, perché sappiamo la difficoltà nel avere dosi sufficienti di vaccini. Ci sono dei paesi come la Serbia, io leggo, che propone questi vaccini addirittura ai turisti stranieri che possono prenotarsi sul sito e scegliere addirittura, leggo, il tipo di vaccino da fare. Ecco, come commenta questa notizia? Cosa c'è di vero? Cosa sta succedendo? Perché c'è tutta questa difficoltà nel avere dosi sufficienti di vaccini in Italia e invece sembra che non avvenga in altri paesi? Ci sono paesi persino europei come la Germania che hanno meno difficoltà rispetto a noi. Allora, tutti abbiamo opzionato questi vaccini attraverso un contratto di tipo europeo e quindi dipendiamo tutti da quel contratto, la Francia, la Germania, la Spagna, tutti i paesi d'Europa e noi non siamo stati meno fortunati di altri. Abbiamo opzionato tutte le dosi necessarie di cui avevamo bisogno. Soltanto che alcuni paesi come la Germania, visto il forte ritardo che ci sono stati, hanno iniziato un acquisto di tipo extra europeo, con linee ufficiali intendiamoci, niente di strano o percorsi bizzarri, semplicemente tramite il libero mercato, pagando di più questi vaccini. Ora il punto è, l'Italia è disposta ad accelerare pagando di più questi vaccini in attesa che arrivino queste dosi opzionate. Bisogna capire come il governo intende risolvere questa questione, anche perché non è etico che le aziende farmaceutiche vanno dicendo non riusciamo a produrne a sufficienza, però riescono poi a venderne a sufficienza al triplo del costo mediante percorsi canali extra europei. Quindi qualcosa di strano sta certamente accadendo e quindi questa è geopolitica nella quale io non mi cerchiamo di non entrarci. Io salutandola vorrei solo una sua considerazione finale, visto che come dicevamo prima c'è una sovrabbondanza di informazione, di comunicazione. Spesso questo non fa tanto bene, ma visto che abbiamo parlato delle vaccinazioni, del vaccino AstraZeneca, si valutano sempre quelli che sono i vantaggi rispetto agli svantaggi, i benefici rispetto a quello che poi è il rischio complessivo. Un suo messaggio per quanto riguarda le persone che ci stanno seguendo adesso e che magari hanno ricevuto questo sms che le invita alla vaccinazione. Fiducia? Cosa si deve avere in questo momento? Soprattutto le donne, visto che prima ha citato le popolazioni femminili fino ai 55 anni, 60 anni. Allora, con un semplice calcolo, perché le rassicurazioni e basta, mi rendo conto che servono a pochissimo. Facciamo questa considerazione, dico non stiamo escludendo niente, ma sta proprio dando questi messaggi poco chiari, proprio perché ha messo sotto la lente di ingrandimento tutti quei 25 casi di trombosi cerebrali su 25 milioni di dosi. Quindi sta dicendo la verità, non sta nascondendo niente. Però ragione in questo modo, in modo scientifico, la probabilità di, diciamo, la percentuale di letalità nella fascia di età tra 50 e 59 anni, quindi la persone che muoiono tra 50 e 59 anni per avere contratto il virus è dello 0,6%. Con questo credo di aver detto tutto. È di gran maggiore il rischio di contrarre le infezioni in un momento di pandemia e finire in terapia intensiva anche nella fascia tra 50 e 59 anni, che avere uno di quegli eventi rarissimi di cui nessuno esclude la possibilità di essere associato ad AstraZeneca. Bene, io la ringrazio soprattutto perché non ci ha girato intorno, devo dire che è stato chiaro e comunque ci ha raccontato tutto nel dettaglio. La ringrazio davvero il professor Francesco Brocco, l'operologo dell'Università degli Studi Milano Bicocca. Ovviamente buon lavoro e spero che ci possano essere altre occasioni per aggiornarci, magari a ridosso di questa stagione estiva, così capiamo come ci siamo arrivati a questo periodo che speriamo sia davvero un periodo di maggiore libertà da questo virus. Grazie davvero. Mi auguro proprio di sì, grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie, arrivederci. Allora torniamo in studio, eccoci dopo aver fatto una panoramica su quello che è lo stato dell'arte e prima di collegarmi con l'ospite che è adesso in studio con me in maniera virtuale vorrei avere anche una considerazione da Alessandro Avramo. Ovviamente si parla di vaccini, presto anche i farmacisti saranno in prima linea nella realizzazione di questa campagna vaccinale perché è stato firmato, lo sappiamo, un protocollo che prevede che anche i farmacisti possano effettuare le vaccinazioni. Ma al momento qual è la situazione? Allora sì, intanto una svolta epocale è quella di avere in farmacia un farmacista che fa le vaccinazioni. In Europa qualche paese già lo stava facendo, si era già parlato a fine dell'anno scorso per i vaccini, per l'influenza solita stagionale, poi era tutto stato congelato, la seconda e la terza andata Covid hanno evidentemente fatto tornare di urgenza la tematica, le farmacie sono capillari in tutta Italia, se ne contano all'incirca 19 mila, non è un numero esigua, è un numero che è giustamente stato tenuto in conto in quanto proprio per la capillarità della logistica delle nostre strutture, riusciamo a garantire sicuramente un servizio che è passato in termini sotto casa. Nel momento in cui i farmacisti e soprattutto le farmacie danno l'anno l'ok, lo stiamo dando in questi giorni, entro domani ci sarà la fine del nostro primo giro di consultazione interno, sia il nostro ordine che la Federfarma che il cartello sindacale riuscirà a tirare su poi a livello logistico tutto ciò che verrà preso in carico dalle regioni in seguito al decreto di Draghi. Vediamo che mi auguro che possa essere messo in pratica entro questo mese, nel senso che si ipotizza che nell'ultima decada di aprile si possa veramente arrivare a questa vaccinazione in farmacia. Presumibilmente ci saranno i vaccini AstraZeneca e molto probabilmente quelli Johnson e Johnson. Entriamo nel dettaglio tra pochissimo perché ovviamente sono tanti i servizi che sono stati attivati in farmacia in questi mesi, poi con Alessandro Avramo avremo modo anche di affrontare un po' quello che è il punto di vista di un amministratore locale perché con il suo lavoro alla circoscrizione 6 anche da questo punto di vista avrà sicuramente tanto da dirci perché dobbiamo dirlo questa pandemia ha messo in crisi un po' quello che ovviamente al primo posto c'è la situazione sanitaria ma tante sono anche le dinamiche che si sono attivate per quanto riguarda l'economia dal punto di vista sociale anche e sicuramente quindi sono tante le considerazioni da fare. Ma adesso apro nuovamente una finestra con i nostri collegamenti e ringrazio il dottor Fabrizio Gennari che è direttore della chirurgia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Grazie per essere intervenuto con noi in diretta perché con lei commentiamo brevemente però credo che sia molto bello anche come segnale perché è un evento che è stato reso noto proprio in questi giorni quindi sotto le festività pasquali speriamo tutti in una rinascita e una rinascita c'è stata per una bambina che è stata assistita pensate per 17 mesi praticamente dalla sua nascita i primi 17 mesi della sua vita li ha passati in ospedale e speriamo che presto possa uscire perché questa bambina era nata con una malformazione molto rara, un'ernia diaframmatica. Ecco ci vuole spiegare come era appunto la situazione di questa bambina e cosa è stato fatto per ridarle una speranza di vita? Sì è corretto, la malformazione di cui era effetto la bambina era un'ernia diaframmatica congenita, è una malformazione rara, non rarissima, cioè fa parte del lavoro sulla chirurgia neonatale che effettuiamo regolarmente, sono casi in cui già in prenatale durante la valutazione ecografica alla ventesima settimana può essere rilevata, per cui sono gravidanze che noi seguiamo in gruppo multidisciplinare con i colleghi della diagnostica prenatale del Sant'Anna e con il supporto appunto dell'equip chirurgica che io dirigo per quanto riguarda poi la presa in carico del bambino ed è una situazione in cui per un motivo non chiaro si crea all'inizio della fase di formazione del feto un vero e proprio buco nel diaframma che è il muscolo che separa l'addome dal torace. In questo modo l'intestino, il contenuto addominale può migrare nell'emitorace di solito di sinistra e comprimendo il polmone che invece deve svilupparsi liberamente ne determina un iposviluppo, una mancata normale crescita e questo ha delle ripercussioni poi alla nascita, nel senso che questi bambini hanno grosse difficoltà a respirare normalmente e anche con ripercussioni sulla funzione cardiaca. Sostanzialmente quindi per dirlo in maniera molto semplice al nostro pubblico che ovviamente noi non siamo del mestiere ma cerco di interpretare, l'intestino aveva preso lo spazio che solitamente viene ad essere così occupato dal polmone e quindi il polmone era più piccolo rispetto a quella che… Sì, il polmone sinistro è più piccolo e anche quello destro viene compresso, per cui la quantità di polmone che abbiamo a disposizione alla nascita è ridotta e questo si ripercuote anche sui vasi che arrivano al polmone, quindi sono più piccoli e il cuore fa più fatica a mandare il sangue dentro il polmone. Questo necessita di un approccio rianimatorio intensivo molto importante appena i bambini nascono con questo problema, ma avendo la diagnosi prenatale noi siamo pronti a fare questo e poi quello che si può fare, si fa e che nella maggioranza dei casi porta a questi bambini poi a una vita normale è un intervento chirurgico nei primi giorni di vita, è un intervento delicato che viene effettuato appunto su bambini che hanno questa difficoltà respiratoria e circolatoria importante ed è talmente delicato che viene effettuato in rianimazione, cioè non si portano i bambini in sala operatoria come in altre situazioni, ma lì si opera dentro un'isola neonatale, cioè una specie di incubatrice aperta in cui noi ci spostiamo con tutto il materiale strumentiste e assistiti dai rianimatori della rianimazione che gestiscono il bambino in questo difficile equilibrio, operiamo questi bambini direttamente in culla. Questa bambina però lo sappiamo ha avuto altri problemi perché purtroppo la fortuna non è stata dalla sua parte perché come diceva lei solitamente dopo l'intervento i bambini possono avere un decorso diciamo quasi normale, ma in questo caso la bambina ha avuto un problema anche al fegato, ha necessitato di un trapianto di fegato, lei ha preso anche il covid, povera bambina ha preso anche il covid, senza uscire mai neppure dall'ospedale ha preso anche il covid, poi però la speranza è arrivata ancora una volta da un paziente morto di covid perché un fegato che aveva il covid, da quello che abbiamo letto. Il donatore è morto per un'altra ragione ma era anche covid positivo, quindi è stato tra l'altro la prima deroga in un momento in cui le regole erano ancora in via di definizione per cui a un paziente che ha superato il covid come la bimba è stato programmato e accettato l'utilizzo di una parte del fegato di un donatore che a sua volta era covid positivo, che era stato covid positivo e quindi in un campo che era abbastanza sconosciuto ma che a ragione scientifica poteva essere esplorato. Quindi diciamo che i benefici possibili erano maggiori dei rischi in questo momento. Assolutamente sì, in questo caso infatti la bambina era in condizioni decisamente molto compromesse, non avrebbe potuto aspettare a lungo e il fegato invece gli ha veramente ridato un'ulteriore vita, un'ulteriore chance. Bene, la ringrazio davvero per questo. Ci dice, visto che noi ci aggiorniamo sempre, ora come sta la bambina? Sappiamo che avrà ancora bisogno di trattamenti però. Sì, ha bisogno di essere controllata nel tempo però nei prossimi giorni andrà a casa e la seguiremo ambulatoriamente però la bimba adesso sta decisamente bene, gioca, ha avuto un buon recupero di tante funzioni che potevano essere compromesse da questo lungo ricovero, ma è bella tosta come si dice, ai suoi genitori l'hanno sempre stimolata molto, gli specialisti della riabilitazione, i fisioterapisti, i colleghi che si occupano della riabilitazione hanno fatto un enorme lavoro, c'è stato anche per la famiglia un sostegno psicologico, insomma è sempre un lavoro enorme che coinvolge centinaia di persone in tutto questo ma il risultato ci ha dato grande soddisfazione. Assolutamente, è un lavoro di squadra e devo dire è importante che voi abbiate anche creduto in questa bambina che probabilmente non ha potuto lei parlare però voi avete dato modo, avete interpretato il suo bisogno di vita e la sua grande forza, davvero questo è un bellissimo messaggio. Io non posso fare altro che ringraziarla ovviamente con tutte le equip che sono state mobilitate anche in questo senso e la saluto e le auguro un buon lavoro dottor Fabrizio Gennari. Grazie a lei per il suo intervento, grazie. Ed eccoci, torniamo in studio, è sempre bello raccontare queste notizie a lieto fine, purtroppo non sono solo tutte a lieto fine ma quando ci sono, noi ringraziamo davvero anche perché abbiamo una sanità che dobbiamo ammettere è ad altissimo livello e queste storie lo testimoniano assolutamente. Allora, dopo aver fatto quindi aver chiuso questa nostra finestra, torniamo in studio, torniamo con i miei ospiti, ovviamente vi invito anche nella nostra conversazione Chiara De Petri e conosciamo la Diapsi Piemonte, che cos'è, che cosa fa? Allora, innanzitutto grazie mille per questo spazio molto prezioso concesso. Allora, la Diapsi è un'associazione che opera da più di 30 anni nel territorio e si occupa di difesa dei pazienti psichiatrici e dei loro familiari. Fondamentalmente ad oggi operiamo su tre livelli, quindi a livello di attività dei pazienti, quindi facciamo delle attività di gruppo che sono di stampo risocializzante e ludico-ricreative e attività rivolte prettamente ai familiari, quindi supporto, sostegno, colloqui partecipati e volti all'informazione e anche gruppi di automuto aiuto. E l'ultimo filone che è quello più di lotta politica, volto a ridurre lo stigma e occuparsi di rivendicare il diritto alle cure. Certo, quindi fate un po' quella che è la parte, diciamo, cercate di dare forza ad una categoria di persone che forse da sole, diciamo, non hanno questa forza. Quindi anche la forza di farsi sentire nei tavoli istituzionali per riuscire ad ottenere quelli che sono dei diritti, risultati ed essere visibili. Perché forse questo tipo di pazienti o comunque di persone che hanno questi disturbi spesso sono stigmatizzate, restano a casa quasi chiuse, come se non dovessero farsi vedere, non dovesse essere conosciuto questo disagio. È un po' così, questa è l'impressione che abbiamo noi dal di fuori. Esattamente, e infatti è il motivo per cui sono molto contenta di essere qui perché comunque si dà voce a un aspetto che c'è, che esiste e che però non sempre viene ricordato. A questo proposito, chiaramente durante il periodo di pandemia abbiamo risentito molto di questa modalità che ci ha costretto a organizzare le attività quanto più possibile a distanza, quindi in maniera virtuale. Abbiamo ideato un progetto che si chiama Virtual Diapsi per cui coinvolgevamo i pazienti in modalità virtuale in piccoli gruppi usando le piattaforme digitali. Certo, approfondiremo questo argomento tra pochissimo perché quando si parla di disagio, che tocca sicuramente nel vivo anche le famiglie, che compromette anche la tenuta di una famiglia, sicuramente in un periodo in cui siamo stati tutti chiusi, tutti relegati in un ambiente familiare e domestico, questi problemi si sono sentiti, immagino, molto molto di più. Però, appunto, torniamo anche con Alessandro Avramo a parlare in generale di questo periodo di Covid, visto da una categoria che è stata al centro dell'attenzione perché i farmacisti sono stati in prima linea, forse ancora più dei medici di medicina generale, perché quando non si potevano raggiungere gli studi, appunto, dei medici, dove si andava per chiedere informazioni, per chiedere cosa devo fare? Dal farmacista, no? Che è stato sempre aperto, le farmacie sono state sempre aperte, anche nei mesi più duri di questa pandemia. È così? Sì, diciamo, la farmacia è un luogo aperto, non si deve neanche prendere appuntamento per parlare con il titolare, piuttosto che con il collaboratore, con le bravissime dottoresse, sempre disponibili e sorridenti. È un po' il punto di forza della nostra attività ed è il motivo per cui a maggior ragione si è arrivati anche ad avere finalmente anche il ruolo di vaccinatore come farmacia hub e il vaccinatore come farmacista. Io dico, è passato un anno abbondante, un anno e due mesi, adesso ho perso anche io un po' il tempo, in confronto ai primi periodi, onestamente molto alienanti, dove ci ricordiamo tutti, mancava qualsiasi cosa della malattia, non si sapeva molto, si sentiva solo quello che veniva detto in televisione, passavano comunque delle tristissime immagini, mancavano mascherine che sono un po' l'oggetto del desiderio dell'epoca 2020, un po' come adesso sono i vaccini, guanti, gel, lavamani, le protezioni, basta solo pensare ai plexiglass, adesso ormai viviamo tutti un po' mezzi barricati dentro le nostre attività. Sì, le farmacie hanno infatti a maggior ragione anche purtroppo contato dei morti, perché come tutte le professioni ad alto rischio non ci siamo mai tirati indietro. Di dire, onestamente il cittadino si sentiva molto abbandonato, abbandonato ma non nel senso che nessuno lo guardasse, ma purtroppo la fame di sapere in questi casi fa trasalire le emozioni e comunque la gente ha bisogno di essere rassicurata. Ne sapevamo anche noi relativamente poco o comunque sicuramente la coniezione è arrivata pian pianino. Diciamo che i primi mesi sono stati decisamente duri. Ecco, io parlando di tenuta anche sociale, perché ovviamente questi periodi di difficoltà, di restrizioni, portano anche a rischi di questo genere. La gente non ne può più, purtroppo l'insofferenza aumenta e devo dire che anche alcuni messaggi che sono giunti nei giorni scorsi testimoniano tutto questo. Per esempio, questo Adelmo ci ha scritto qualche giorno fa, però mi interessa adesso, visto che abbiamo un rappresentante della categoria, avere anche un suo contributo. Ecco, come dicevamo prima, è un segno di questa difficoltà, di questo anche quasi, ecco, questo senso di frustrazione che aumenta nei telespettatori. Gli unici che hanno sempre guadagnato, anche con il Covid, sono le farmacie, i supermercati, i tabaccai e le pompe funebri, ci dice Adelmo. Questa è un'esternazione ovviamente che porta la sensazione di un telespettatore che probabilmente è stufo, anche di sentire vari pareri che spesso sono contrastanti. Ecco, questa frustrazione che è imperversa. Se posso dire la mia, il mio lavoro è cambiato decisamente. Adesso dire che siamo più ricchi dell'anno scorso a me interessa poco. Devo essere anche sincero, o non è vero perché con le mascherine quest'inverno non si è malato nessuno. Poi bisogna essere anche sinceri, non è questo il fruco della situazione. Sì, magari siamo una categoria che sta lavorando e questa è la cosa che onestamente mi gratifica mi gratifica perché comunque restare a casa con famiglia, figli e un lavoro che manca e quindi pagare il mutuo e tutti i pensieri che vengono di conseguenza portano altro che allo strego. Certo. Allo stremo, quindi delle forze sia fisiche che mentali. Quindi in questo senso io non mi sento di giustificarmi. Ma no, ma non mi sento di giustificare. In realtà l'amico a casa ha tutte le ragioni per lamentarsi considerando che sicuramente la situazione delle farmacie se vogliamo è una situazione da privilegiati ma non lo vedo come tale in quanto non ci siamo mai tirati indietro anche nei momenti peggiori. Devo essere sincero, anzi a maggior ragione fin dai primi, appena si è potuto a parte cercare mascherine nel 2020 che è stata una cosa un'impresa perché non c'erano e perché si affacciavano alla farmacia delle persone a vendere che non erano del nostro mondo e arrivavano comunque a dei prezzi fuori mercato e si doveva sottostare a delle dinamiche che adesso non voglio neanche ricordare. e quindi questo era già uno dei motivi per cui noi ci siamo subito prodigati per fare in modo di accontentare la nostra clientela che è quella che poi ci permette di vivere se vogliamo parlare in soldoni ma è quella che ci gratifica di più per quanto riguarda tutto ciò che fa parte della nostra professione. Ma è appena possibile a fin anno dell'anno scorso abbiamo cominciato a fare i tamponi e i test serologici sono fioriti di tutti i gazebo fuori dalle farmacie non è stata neanche lì una cosa semplice perché comunque non bastava mettere fuori un passato e mettere in una tenda bisognava anche chiedere il permesso al comune trovare la persona che potesse farle normalmente un infermiere o un medico perché lì i farmacisti non possono ancora farli quindi ecco tiriamo le somme anche di questo perché sono sicura che chiunque si trovasse appunto vicino ad un farmacista sarebbe interessato da varie domande ecco che cosa si può fare attualmente in farmacia abbiamo detto ancora le vaccinazioni no o sostanzialmente ci sono alcune regioni che si sono appoggiate ad alcune farmacie però per far fare i vaccini ai medici di medicina generale giusto attualmente in farmacia i servizi che vengono dati quali sono? allora parliamo di covid certo sì a parte quelli classici sono i test rapidi i tamponi antigenici e test sierologico che è anche comunque abbastanza richiesto ovvio che il tampone è quello che fa un po' più rasserinare gli anni quando uno ha dei dei sintomi o comunque ha avuto un presunto contagio con qualcuno nell'arco di quei pochi giorni la comodità di averlo sotto casa perché comunque per farlo soprattutto nei mesi scorsi c'erano sempre dei grossi problemi di logistica e forse è anche uno dei motivi per cui siamo arrivati ad avere una casistica relativamente alta nella prima ondata e poi sempre maggiore nella seconda e nella terza quando poi effettivamente i tamponi se ne facevano la forza vera e propria della farmacia sarà appunto poter vaccinare con il farmacista all'interno perché adesso siamo legati comunque alla presenza dell'infermiere io ne ho una bravissima ci mancherebbe però anche lei ha un lavoro e ci siamo tutti inventati tra virgolette una doppia mansione e poi il farmacista in farmacia in sede è evidente che poi ci sarà la possibilità di accelerare nettamente con almeno come servizio per la vaccinazione sarà totalmente gratuito per il cittadino quindi adesso vedremo Genova è stata la capofila di una città che ha dato la struttura delle farmacie ma ancora non il professionista lavorato e abilitato in farmacia quindi non è ancora il farmacista che può fare le vaccinazioni ma i medici e gli infermieri allora però arriviamo a questo ovviamente al punto di svolta che è questo visto che dicevamo una professione importante una missione perché lo sappiamo è anche questo no? quello di sul territorio e poi c'è a fianco l'impegno anche per il territorio con se anche candidato per le prossime elezioni comunali perché? perché? chi glielo fa fare? ecco diciamola così questo me lo so onestamente me lo chiedo in tanti ma non è quello il polemata mi piace mi è sempre piaciuto e ho una versione una visione mia filantropica dove a me piace stare in mezzo alla gente il farmacista di suo da sempre ha un'attitudine ad ascoltare la gente a stare in mezzo loro ad ascoltare i problemi provare a risolverli ha una grande capacità di ascolto questo è insito un po' nella mia professione negli anni mi sono molto sensibilizzato io lavoro da 25 anni in un quartiere periferico si chiama Falchiera è un posto a cui sono molto legato ed è onestamente il motivo per cui 5 anni ho deciso di candidarmi in circoscrizione la candidatura è andata subito a buon fine sono stato eletto devo essere sincero è stato un lustro quasi di difficoltà oggettive e di sofferenze perché comunque da neofita del mestiere anche lì ho dovuto imparare una serie di cose e comunque candidarsi a una posizione pubblica ti fa perdere sempre un po' del tuo perché alla fine il lavoro l'ho mantenuto perché inevitabilmente la farmacia deve andare avanti ma la soddisfazione comunque di poter dare una mano al territorio viene prima e questo è il motivo che mi ha portato poi ovviamente a pensare di fare il passo successivo che è quello del consiglio comunale proprio per dare una mano a tutto a Torino però voglio dire il fatto di avere anche molto il posto del mio quartiere dove poi alla fine vivo quasi più che a casa e mi ha fatto anche conoscere tante belle realtà al di là diciamo del territorio di Falchera Villaretto dove io opero perché tutta la circolazione 6 ha quasi 106 mila abitanti un territorio vasto Torino Nord ha decisamente bisogno per certi versi in gruppo Torino Sud di una grossa mano e poi mi dirà magari alla fine proprio quali sono proprio detto con delle parole i temi che vorrebbe portare all'attenzione appunto del consiglio comunale dell'amministrazione appunto di Torino torniamo però da Chiara De Petri per parlare di necessità appunto dei più fragili perché lo sappiamo sicuramente questo anche per un quartiere che può essere periferico è importante mettere in evidenza quelle che sono le fragilità maggiormente le persone che si trovano in una situazione di fragilità e quante fragilità sono venute si sono messe in luce in questi periodi di pandemia di chiusura come le famiglie di queste persone che hanno problemi appunto collegati sono ammalati psichici come hanno affrontato queste difficoltà della chiusura del dover gestire anche spesso i loro familiari all'interno di quattro mura ecco sì allora sostanzialmente la difficoltà grande che abbiamo riscontrato è il non poter fare i colloqui in presenza questo è stato un grande limite perché comunque determinate famiglie non avevano la possibilità di isolarsi in una stanza e poter parlare liberamente in modalità virtuale e quindi è il motivo per cui questo aspetto del nostro volontariato ne ha risentito particolarmente oltre al fatto che comunque questa situazione di staticità ha generato molta noia molta insofferenza e quindi anche i pazienti che vivono nelle famiglie hanno fatto da fulcro per cui tutti i familiari hanno dovuto fronteggiare principalmente i suoi bisogni e quindi sono venuti meno i bisogni dei familiari stessi che già di per sé tendono a mettersi in secondo piano e in questo periodo ancora di più è stato difficile agganciarli da questo punto di vista e invece una domanda che sicuramente può essere pertinente visto che appunto Chiara De Petri è responsabile dei volontari perché decidere di cimentarsi in un volontariato così complesso immagino perché comunque si ha a che fare con persone che sono anche che hanno bisogno di una chiave di lettura particolare di una comprensione particolare spesso mettono anche a dura prova credo il volontario Allora innanzitutto personalmente è stata una questione di formazione nel senso che io sono dottoressa in psicologia quindi ovviamente avevo già un interesse mio su questo tema e detto ciò per essere volontario in diapsi in realtà non è necessario avere una formazione psicologica e ci sono un sacco di volontari che provengono dalle formazioni più disparate e secondo me la chiave di tutto è perché una persona decide di fare volontariato fondamentalmente per sentirsi utili cioè questa è la componente più importante e poi diciamo che il ritorno che ottieni dal fare del bene nei confronti di persone è un bagaglio prezioso che ti porti poi in qualsiasi esperienza della tua vita sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano purtroppo la questione del sentirsi utili in questo periodo si è fatta molto sentire e quindi abbiamo avuto un turnover importante ma è anche vero che nel tentare continuamente di proporre nuove attività e anche un po' ricostruire le vecchie in modalità virtuale siamo riusciti comunque a tenerci volontari comunque una continuità allora leggo un messaggio che ci ha mandato un telespettatore che riguarda probabilmente la questione delle vacanze prima parlavamo del fatto che si guarda anche al periodo estivo ovviamente con tanta attenzione speriamo che vada meglio dell'anno scorso questo lo dico io tutti quelli che torneranno dalle vacanze non faranno la quarantena perché devono rientrare al lavoro tanto non ci saranno controlli che problemi porteranno nei prossimi 15-20 giorni Marco allora questa sicuramente è una considerazione di Marco io spero che i controlli ci siano che comunque ci siano delle regole precise per quanto riguarda il periodo estivo perché si è parlato della seconda ondata come conseguenza di un'estate indiscriminata io spero che diciamo un anno di pandemia abbia insegnato qualcosa al comitato tecnico scientifico e tutti coloro che dovranno decidere le prossime mosse e che non si cada più negli errori del passato questa è la mia considerazione Alessandro Avramo vuole fare la sua considerazione anche in questo senso intanto lo spieghiamo per tutti la fine di questo periodo perché onestamente non se ne può più e non lo dico solo io il vaccino è forse l'unica vera arma senza il forse l'unica vera arma che avremo e abbiamo ma avremo appena ne arriva una quantità di sconfiggere la malattia non voglio pensare eventuali mutazioni non voglio pensare a niente voglio pensare che si possa riaprire a meno uno squarcio nelle nuvole per far capire anche a chi non ha più un lavoro chi non ha più una speranza di tornare a riprendersi quello che era la sua vita perché onestamente la vedo dura di tornare come fosse un interruttore on off passatemi l'inglesismo riprendere la nostra vita da zero come prima non sarà possibile però secondo me strada facendo riprendiamo la confidenza giusta perché comunque è necessario e poi speriamo davvero che la chiave di volta possa essere l'arrivo massiccio dei vaccini e quindi una vaccinazione appunto di massa ecco per concludere eravamo rimasti con questo dubbio quali i temi da portare all'attenzione per una vera rinascita di Torino vabbè io guardi il motivo per cui mi sono candidato in circoscrizione cinque anni fa era perché la gente si lamentava che Torino non avesse più decoro o comunque ci fossero dei problemi all'interno dei quartieri più decentrati Torino è cresciuta tanto dopo le Olimpiadi e purtroppo solo la grande crisi dal 2008 in poi l'ha fermata dobbiamo chiudere quindi proprio comunque far tornare intanto ricucire Torino Nord con la città perché ha bisogno della metropolitana 2 innanzitutto poi il decoro le bruche l'erba alta la sporcizia i servizi la sicurezza insomma ci sono un sacco di cose tutto a Torino deve tornare ad avere la luce di quelle serate delle Olimpiadi dico solo questo bene ok quindi rimaniamo su questo sprazzo di luce di speranza anche perché ci fa venire alla mente un periodo bellissimo vissuto dalla nostra città e con questo io voglio chiudere vi ringrazio davvero per la vostra attenzione ringrazio Alessandro Avramo Chiara De Petri per essere stati con me oggi gli altri ospiti virtuali vi ricordo che torniamo domani sempre in diretta e alle 17.30 ci sarà il telegiornale di Prima Antenna grazie e arrivederci Grazie a tutti